L'Arezzo calcio femminile riprende il cammino in campionato con una netta vittoria contro la Iesina allo stadio comunale Città di Arezzo per 4-1 e resta in scia della coppia di testa formata da Bologna e Torres. L'Arezzo si schiera con il consueto 4-3-1-2 con tutte rispostate esterno basso e ceccarelli sulla tre quarti con Razzolini e Gnisci a formare la coppia d'attacco. La partita inizia su buoni ritmi da una parte e dall'altra a primi minuti di studio per le due squadre. Al sedicesimo sono le ospiti a passare in vantaggio con Croscioni che approfitta di una disattenzione della retroguardia a Maranto e batte Valgimighi con una diagonale rasoterra. Le ragazze a Maranto si risistemano subito e prendono il controllo del gioco. Razzolini è la più vivace e al ventisettesimo pareggia i conti con un gran tiro che si infila sotto la traversa della porta difesa da Generali. Inizia l'assedio dell'Arezzo per ribaltare il risultato. Al trentottesimo Gnisci scatta sul filo del fuorigioco e batte Generali con un bellissimo pallonetto per 2-1. Nella ripresa la Iesina ci prova con qualche conclusione ma senza riuscire ad accorciare il risultato. Il pallino del gioco resta nei piedi delle ragazze a Maranto che al sessantanovesimo trovano il terzo gol con Orlandi che dal dischetto spiazza l'estremo difensore Marchigiano. L'Arezzo continua a macinare occasioni con Cirri e con Ceccarelli. All'ottantunesimo Razzolini chiude definitivamente i conti con un gol dal Cineteca dalla lunga distanza. Il match termina 4-1 e con questa vittoria le ragazze a Maranto si portano a 43 punti e staccano il filecchio. Prossimo impegno domenica 30 maggio in trasferta contro l'Aprilia Racing Club. Siamo un po' complicati la vita però poi diciamo che siamo diventati praticamente pradoni del campo. Insomma specialmente poi anche nel secondo tempo credo che non ci sia stata insomma il campo abbia il risultato. Lo vedo molto giusto insomma rispecchia credo l'andamento della partita. Presidente una bella vittoria in questo campo che è sempre speciale. Sì è il campo della mia città è sempre emozionante giocare le partite qua e con una squadra tra l'altro che ci dà molte soddisfazioni quindi sono molto contento. Ora che è il rush finale ci credete nel senso è a portata di mano anche se non sarà facile l'obiettivo? Ma sì nel calcio non dobbiamo fare troppa matematica perché comunque ogni partita va a sé però ci crediamo cioè giochiamo tutte le partite per portare il risultato pieno proprio perché ancora mancano quattro partite importanti. Una grande prestazione personale una grande prestazione di squadra insomma una vittoria netta bella anche nel gioco. Sì dai giocare qui è sempre un'emozione sicuramente siamo partite un po' a rilento perché anche mentalmente comunque giocare allo stadio è sempre insomma sempre importante quindi poi dopo quando abbiamo preso un po' le misure del campo e dell'avversario non ci sono stati problemi. Insieme a Costanza Cazzolini un'altra doppietta due gol bellissimi forse il primo più bello del secondo sei d'accordo? Sì sì grazie mille sono contenta il primo devo dire abbastanza difficile poi di sinistro che non è il mio piede diciamo che ho compensato anche ai parecchi gol sbagliati nel primo tempo soprattutto contentissime per la prestazione alla fine era purtroppo partita male ma siamo riusciti a rimetterci in corsa siamo riusciti a fare gol a segnare e a portare a casa il risultato. Far gol è sempre bello ma fare gol in questo stadio farne due addirittura? Sì questo stadio è un grande stadio mi piace sono contenta ci ho già giocato e ho quasi sempre segnato quindi mi porta bene questo stadio.